salve amici e amiche e apriamo il video oggi male come direbbe barba scura ma proprio male questa era a bologna qualche giorno fa insomma avete capito cosa stanno facendo non ho parole non penso che siano autorizzati onestamente perché abbiamo visto che gli altri striscioni non erano autorizzati e ovviamente chi ha autorizzato la fissione pagherà ci sarà tutta la catena perché è giusto che verranno perseguiti e quindi anche questi due probabilmente stanno facendo una cosa illegale ma poi non so se avete sentito l'audio è pessimo ma esordiscono con la russia non è il mio nemico il mio nemico è un altro pausa parliamo della nato che spende millemila miliardi più della cina più della russia insieme poi dicono altre fesserie comunque questo è diciamo quello che passa nelle strade italiane complimenti continuiamo sul tema propaganda russa e questa secondo la propaganda russa è una carrista ne dubito una bella ragazza voglio dire ci mancherebbe che cosa dice sentiamola ecco fatto su armiamoci e andiamo partiamo verso kiev e dopo kiev berlino dopodiché si mette in marcia con il caro armato e va bello bello fare i propagandisti russi non so se è remunerativo comunque ecco per un per un pochino di testimonianza prendiamo questo ragazzo di 18 anni che si è arruolato il 22 8 2024 ha fatto dei dei video su telegram questa è la sua testimonianza arruolatosi il 22 8 2024 ad agosto ok ho appena firmato il contratto per l'arruolamento mi hanno dato il mio la mia targhetta militare e adesso fatto l'addestramento il 27 qualche giorno dopo lo stanno mandando al fronte ha dovuto tagliare cinque video prima di fare questo che non riusciva a trovare le parole e dice di essere il più esperto nel distretto dopo cinque giorni ok adesso è al fronte è al fronte sta facendo la cena non so cos'è la cena il pranzo la mensa con gli altri questi sono gli altri lui ha 18 anni lo ripeto domani a kursk sei giorni dopo il 12 9 passate due settimane praticamente ovviamente questo ragazzo di 18 anni è un adolescente per noi uno a 18 anni può essere mandato in guerra secondo voi ovviamente sto ragazzo si pente della sua scelta e ha visto che nella regione di kursk non c'è via d'uscita e questo era il 12 settembre piange nel video si dispera e due giorni dopo alla famiglia vengono comunicate che bisogna fare il funerale ok questa è la situazione per i 18 anni poi io ho visto altre cose di cui non posso neanche parlare però gli addestramenti che fanno questi soldati ovviamente spesso hanno delle più che addestrarli al combattimento li ho visti perché ci sono video li addestrano a difendersi dai droni e io letteralmente ho visto nei campi di addestramento i soldati cercare di arrendersi lanciando il fucile contro il drone o cercare di usarlo come una mazza da baseball ora immaginate che sotto il drone c'è una una granata quindi non è una buona idea prenderlo a bassonate o lanciargli il fucile perché tutte le volte che l'ho visto fare ai soldati e non vi posso mostrare i video poi succede l'inevitabile ok? e così questo è tra l'altro non è neanche un soldato così è un cecchino che ha una divisa speciale la suite la suilli credo che si chiami correggetemi e cerca di sparare al drone vedete che gli gira attorno spara 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 poi quando il drone gli arriva nelle vicinanze lo usa il fucile come una mazza da baseball tac ecco lo ha colpito quindi ha fatto il gesto vedete a questo punto il drone cade e poi succede l'inevitabile quindi questo è un soldato di reparti speciali è un'unità scelta voglio dire un cecchino non è uno qualunque ora passiamo avanti e parliamo della situazione al fronte non ci sono buone notizie oggi allora intanto l'avanzata russa nella regione di Kursk si è consolidata come vedete allora questi sono i rapporti dagli altri ieri fra l'altro ieri ancora e l'altro ieri come vedete la zona di interesse ucraina quella blu si è ridotta ora bisogna considerare sempre la zona grigia che è un'area contesa questo significa che stanno combattendo ma attualmente il rischio per le forze ucraine è quello di venire intrappolati qui perché nel frattempo la pressione russa spinge qui così e così quindi gli ucraini rischiano di essere intrappolati in una sacca qui la situazione è in divenire quindi non posso dirvi con certezza cosa accadrà sappiamo solo che al momento stanno combattendo tutto sta cambiando adesso lo vedremo anche sulla mappa di Mayakosk come vedete i report sono freschi 10 9 poi non ci sono altri aggiornamenti questi per esempio sono mezzi russi distrutti sulla strada il 13 ieri il 12 il 10 quindi questa è la situazione come vedete invece a est è molto intensa l'attività dronica russa tutte queste icone rosse sono droni russi droni di ricognizione droni FPV artiglieria quindi le postazioni ucraine sono state prese di mira allora spostiamoci invece per quanto riguarda la zona di Voycharsk non ci sono cambiamenti significativi se non un bombardamento l'altro ieri il 12 un airstrike da parte russa su questa fila di alberi evidentemente sono postazioni ucraina infatti qui c'è una fortificazione probabilmente hanno sganciato delle bombe uno strike aereo su delle trincee però non ci sono grossi cambiamenti qui gli altri cambiamenti li vediamo appunto intensa attività sempre di bombardamento aereo troops in contact nella regione di Kharkiv andiamo a vedere su Deep State ci spostiamo un attimo per capire i cambiamenti i progressi nella zona scusate di Chasiviar vediamo che c'è stato uno sfondamento russo su più linee nella zona del fiume famoso fiume come vedete hanno in questo punto stanno combattendo da mesi mesi che cercano di superare il fiume i russi quindi questo progresso non è un buon segno così come qui andiamo a confrontare la situazione sulla mappa di Mayakosk la risposta ucraina c'è però comunque la situazione anche qui è in divenire il 12 l'altro ieri l'11 truppe in contatto qui sul ponte questo 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 ponte qui quindi qui stanno combattendo con i fucili letteralmente i soldati allora spostiamoci andiamo a vedere più a sud cosa sta succedendo non tutte le notizie sono brutte andiamo a vedere nella zona di Toresk c'è un piccolo progresso nel senso le truppe ucraine sono riuscite a respingere l'attacco russo qui in quest'area nella zona della miniera quindi hanno ridotto la presenza russa ed è un buon segno in città altro lo vediamo succedere in direzione di Pokrovsk vediamo una riduzione della spinta russa come vedete qui è piccola ma è quello che vi dicevo nel video precedente dal momento che gli ucraini hanno colpito le retrovie quindi vari mezzi sulla linea di collegamento qui di conseguenza la pressione e la presenza russa si è leggermente ridotta se andiamo a vedere la situazione fra l'11 e il 13 vedete questo era l'11 il 12 il 13 qui sembra esserci la presenza ridotta da parte russa e poi più a sud continua invece la spinta russa anche qui la situazione in direzione di Kurakove è abbastanza drammatica dove i russi hanno raggiunto questa strada di collegamento verso il ponte che porta a Kurakove però al momento è una situazione dinamica quindi bisogna vedere cosa faranno gli ucraini se riusciranno a tagliarli la strada qui e questo è quanto per quanto riguarda poi l'area di Vuredar c'è qualche progresso anche qui come vediamo altri campi qualche chilometro occupato dai russi e poi la situazione vicino a Zaporizia vediamola al fiume vediamo se ci sono cambiamenti no non ci sono grossi cambiamenti confrontiamo la situazione che abbiamo appena visto sulla mappa di Mayakov per vedere le geolocalizzazioni come vedete l'area la zona di Toresk e ci sono tantissimi report da parte d'Ucraina e questo ha avuto un impatto sulla spinta russa droni fanteria in contatto il 10 droni il 10 l'11 e questo ha portato a una riduzione del controllo russo sia qui che si spingevano verso la miniera che qui mentre per quanto riguarda pokrovsk l'azione dei droni è stata registrata il 13 con questo video il 13 il 10 e questo ha avuto un impatto leggero anche qui fra l'altro c'è stata il 14 questa mattina mezzi russi sono stati distrutti il 14 il 14 questo l'avevo visto in un altro report parlava di quest'area come una ripresa di terreno da parte ucraina quindi come vediamo ci sono state perdite di territorio ecco come vedete qui in direzione di Kurakove perdite di territorio quindi i russi hanno ottenuto alcuni chilometri gli ucraini hanno risposto alleggerendo la pressione verso Pokrovsk e Toresk volevo dare un'occhiata alla situazione al ponte vicino Zaporizia qui ecco questa zona me la dà come contesa aspettiamo ulteriori informazioni quindi questa è la situazione non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda la mappa allora tornando al discorso sempre di per esempio Mariupol che sempre per fare un parallelo con le informazioni che arrivano dalla propaganda russa avevo visto un video in cui parlavano di una ricostruzione di Mariupol che lì sembra tutto a posto in realtà no per esempio questa è una delle acceglierie più importanti dell'Ucraina e questa appunto a Mariupol quello che viene testimoniato in questo video è che interi pezzi dell'acceglieria sono stati smantellati dai russi e portati via come vedete perché evidentemente hanno bisogno di queste materie prime andiamo avanti questo è un bel video che mostra un classico attacco da parte degli elicotteri ucraini i Mi-24 nella modalità TOS quello che fanno l'ho già testimoniato fra l'altro se volete vi passo il link in cui ho parlato proprio della storia di questo elicottero e delle modalità con cui attacca quello che vediamo appunto è arrivare un elicottero cabrare e lanciare i missili non so scusate i razzi la differenza è proprio quella i razzi non sono guidati lanciano le salve di razzi a palombella in questo modo arrivano più lontano e colpiscono ad aria sono dei piccoli tubi che hanno una testata esplosiva a frammentazione o incendiaria e funzionano un po' come una sorta di artiglieria se lanciati così non sono precisi per niente però se ne lanci tanti fanno un danno d'aria questo permette all'elicottero di lanciare da più lontano e allontanarsi allora finiamo per oggi il video di oggi con le notizie che riguardano il famoso su 24 su 34 che secondo i blogger russi era stato abbattuto da un f16 ne ho parlato l'ultimo video era questo a proposito scrivetemi per chiedermi dove è finita la live di ieri perché youtube me l'ha cancellata ha deciso così che i video della spacex non possono essere condivisi solo chi è autorizzato può farlo quindi niente quella live scordatevela come stavo dicendo allora aggiornamenti su questa notizia non ci sono anche se ormai l'hanno diffusa dappertutto ieri fra l'altro anche repubblica che scriveva fonti attendibili ora il fatto che repubblica consideri i blogger russi come fonti attendibili mi ha fatto molto ridere voglio dire io quando vi ho comunicato la notizia ho messo le mani avanti ho detto guardate questo è quello che dicono i blogger russi non sono attendibili la notizia non è confermata quindi fate attenzione invece secondo il messaggero repubblica le fonti sono attendibili e questo la dice lunga se loro considerano le fonti russi attendibili attendibili dove cosa possiamo credere a questo punto ora alcune piccole precisazioni per quanto riguarda questa notizia intanto vabbè non è confermata e sarebbe anche difficile farlo dal momento che allora sappiamo per certo che i russi hanno perso un su 34 si è successo manca l'appello e questo lo comunicano in genere si sa come sia andato perso è da capire perché fra l'altro l'aereo è precipitato in territorio russo a 50 km dal fronte quindi sarà difficile andare ad analizzare i pezzi per vedere se ci sono fuori da schegge tipiche dei missili quindi sarà molto difficile un'altra cosa che adesso vedremo in questi pochi minuti che ho ancora a disposizione è che la modalità eventuale con cui un F-16 abbatte un aereo utilizzando i suoi missili radar IAM-120B o C che siano per dirla in modo semplice vi faccio vedere quello che succede questo a sinistra LF-16 lui cosa fa questa è la situazione immaginiamo che era intorno ai 80 km di distanza e il su 34 si trovava una cinquantina di chilometri dal fronte se è quello che è successo la tattica tipica dell'F-16 è quella di lanciare il missile intorno ai 70 km al raggio massimo diciamo che può essere lanciato questo tipo di missile se parliamo del B e per le prestazioni del radar dell'F-16 che su un bersaglio così grosso la sua capacità di aggancio è intorno alle 40 miglia giù di lì quindi quando viene lanciato questo missile l'F-16 deve guidarlo questo missile intanto i 120 hanno una caratteristica particolare che una volta fatto il lancio salgono molto in quota questo gli permette di ottimizzare la traiettoria balistica viaggiare in area più rarefatta andare e mantenere la velocità e andare quindi più lontano dopo il lancio la tattica da usare con questi missili è quella di guidarli per l'80% circa del loro percorso perché il radarino che il missile ha è piccolino non può vedere il bersaglio da subito quindi l'aereo che lancia il missile deve guidarlo per la maggior parte del tragitto quando il missile arriva quasi a destinazione ha fatto circa l'80% del suo tragitto a quel punto attiva il suo radarino e aggancia direttamente il bersaglio e va in autonomia a quel punto il pilota che ha lanciato il missile il pilota a creino può andarsene per questo si chiamano missili lancia e dimentica ma non sono proprio così cioè molto semplicistico definiti tali quindi una volta fatto il lancio l'aereo che l'ha lanciato può può allontanarsi scendere per avere una migliore visuale sul bersaglio e come vedete il missile nel frattempo fa un'ampia parabola e nel frattempo il pilota ucraino può guidarlo e quando vedete l'80% circa del suo percorso a questo punto nel tratto terminale il missile entra in guida autonoma a questo punto il pilota ucraino può andarsene vedete questa è la fase lancia e dimentica chiaramente se parliamo di ranci lunghi un 120 lanciato al di sotto delle 10 miglia è già autonomo quindi al di sotto di una certa distanza il missile è già abbastanza vicino al bersaglio da poterlo vedere e quindi si attiva subito e quindi non c'è bisogno di guidarlo su distanze molto lunghe questa manovra in gergo aeronatico viene chiamata F-Pol dove polsa per polare dove si sfrutta appunto la capacità dell'antenna per guidare il missile e a questo punto poi vedete il pilota se ne va e il missile arriva su bersaglio quindi ecco uno degli aspetti particolari di questo missile vediamo se lo becco eccolo e che può arrivare in autonomia è tutta la fase l'80% del suo volo quindi finché il missile è guidato fino a quando il missile riceve l'assistenza del radar della guida dell'aereo che lo ha lanciato è un missile silenzioso il pilota russo ha delle antenne che percepiscono i segnali radar il pilota russo sente il lancio di questo missile solo nel tratto terminale quando il radarino del missile si attiva a quel punto il sistema delle antenne dell'aereo che riceve il lancio emette un segnale al pilota che lo avvisa che c'è un missile in arrivo come una sorta di allarme di prossimità chiamiamolo così ma un po' semplicistico dirlo così quindi come vedete almeno nel mio test il su 34 è stato colpito ora questo è un test prendiamolo per quello che è chiaramente non è detto che sia successo necessariamente questo può essere stata un'avaria può essere che durante la manovra di attacco al suolo il scusate un attimo quindi stavo dicendo può essere successo questo può essere che il pilota abbia fatto una festeria e sia andato a collidere le sue stesse bombe una volta lanciate non lo sappiamo quindi una cosa interessante comunque da dire che fra l'altro lo scrive anche questo utente quintus poppa edius silo e che fra l'altro vi avevo anche detto anch'io è che negli ultimi mesi gli ucraini stanno sistematicamente distruggendo postazioni radar sistemi missilistici russi in poche parole questa questa campagna di soppressione delle difese aeree che comprendono anche le antenne di scoperta hanno un ruolo decisivo per un eventuale utilizzo degli f16 quindi se le cose sono andate in questo modo se il sistema i russi attualmente non hanno rvr queste grandi antenne che fungono un po' da radar di scoperta servono un po' come degli awax cioè forniscono una una visione si dice picture però una visione a 360 gradi del campo di battaglia se i russi non hanno queste antenne se i russi non hanno gli awax perché sono stati abbattuti è chiaro che per loro è molto difficile avere un'idea di quello che succede al fronte da un punto di vista aereo di conseguenza un f16 sneaky sneaky nel senso silenzioso occultato potrebbe lanciare un missile che diventa una minaccia per gli aerei che si avvicinano al fronte quindi si bisogna vedere tutto nel giusto contesto perché non è come nei videogiochi che mandi un aereo contro un altro e si fanno dogfight la guerra aerea è un po' più complicata di così quindi è chiaro che se i russi non hanno antenne non hanno postazioni di difese aeree vicino al fronte e questi aerei che vanno a sganciare le bombe non sono coperti si espongono si espongono a qualsiasi cosa non solo agli f16 in teoria quindi vedremo è chiaro che la situazione è in divenire allora fra l'altro questo è il post del blogger che ne parlava blogger russo fonte russa che parlava dell'abbattimento da parte di un f16 sulla base di cosa lo dico non abbiamo le prove però è curioso notare come oggi dopo qualche giorno abbiano cercato di insabbiare quella stessa fonte quindi non sappiamo com'è andata letteralmente bisogna fare bisogna riportare questa notizia che gli stessi blogger che hanno pubblicato questa notizia poi evidentemente sono stati chiamati a ritrattare la loro stessa versione non lo so comunque ho sentito molti commenti a proposito a proposito di scusate dicevo ho sentito molti commenti a proposito dei su 34 che sono aerei moderni come un aereo moderno è stato ah è arrivato un libro grazie lo apro qui sentite è arrivato un libro che avevo ordinato stavo dicendo ho sentito tanti commenti a proposito dei su 34 che tanti l'hanno un po' preso in giro perché l'aereo ultramoderno viene abbattuto dal nonnetto f16 un aereo del 2014 è stato abbattuto da un aereo degli anni 70 ok è un po' da sfatare questo mito però nel senso è vero che il su 34 è entrato in servizio nel 2014 anche se il progetto è partito nel 1990 da un aereo preesistente che è il su 27 infatti mantiene sostanzialmente la cellula è uguale le ali cambia poco lo vedo più sviluppato dal su 33 in particolare per l'appendice posteriore che serve per ospitare contromisure e altre apparecchiature e anche per una questione di pesi perché la grande cabina frontale ha sbilanciato completamente il baricentro che era già piuttosto indietro del su 27 però però ecco è cambiata sicuramente la sezione frontale ospitando due persone un equipaggio di due persone pilota e armiere navigatore quello che è quindi l'hanno trasformato in un bombardiere fondamentalmente è un bombardiere anche se comunque ha 4 piloni barra 6 per fare aria aria volendo l'abitacolo del su 34 è questo è un abitacolo secondo la concezione russa degli anni 90 però l'aereo è entrato in servizio nel 2014 ok quindi cosa mantiene del su 27 molte cose cioè gli strumenti sono quelli angolo d'attacco e accelerometro questi sono strumenti di backup come anemometro ADI HSI questi sono tutti strumenti analogici di backup il minimo nel caso in cui l'elettronica l'avionica dovesse fallire poi qui abbiamo un computerino per eventuali avarie del sistema qui a sinistra e a destra sulle console ausiliarie ci sono probabilmente questi dovranno essere dei computer di navigazione per impostare coordinate e quant'altro e poi ci sono 4 mfd dove suppongo visto che sono spenti vengano proiettati i dati di volo quindi i dati in digitale un po' come avviene negli airbus di linea fondamentalmente sono strumenti digitali quindi dato che mancano completamente qualsiasi strumento analogico che riguarda per esempio i valori dei motori immagino che almeno uno di questi mfd venga deputato alla proiezione dei dati dei motori altri mfd un altro verrà sicuramente deputato alla situazione delle minacce aeree e omissilistiche in poche parole le rvr se prima nei modelli vecchi era il berioza qui manca completamente ed è stato sostituito da un rvr digitale rvr è questo radar warning system immaginiamolo così come uno strumento del genere e questo però è in stile americano questo è proprio l'rvr che c'è per esempio sugli f15 sull'f16 in russia prima degli anni 90 c'era questo chiamato berioza che funzionava molto bene però a differenza di quello nato non ha una simbologia digitale oggi sugli aerei più moderni russi è stato sostituito con uno un po' più simile il berioza intendo questo qui è stato sostituito con un sistema più simile a quello occidentale e quindi gli altri mfd saranno deputati a sistemi d'arma navigazione sensori quello che è dato che è un aereo che fa acqua al suolo ora se questo aereo vi sembra moderno del 2014 vi faccio vedere il cockpit dell'f16 degli anni 70 dove il pilota ha a disposizione due mfd era tutto digitale già quindi questo qui questo è il cockpit dell'f16 quindi non c'è un divario tecnologico anzi io credo che i russi nel 2000 sono arrivati un po' a questo livello come tecnologia se i russi ci mostrano dei mfd digitali di un f16 degli anni 70 più o meno siamo lì come tecnologia bene insomma questa è una notizia di per sé secondaria non è che cambia tanto se un su 34 è stato abbattuto da un f16 è importante perché è stato abbattuto un su 34 alla fine questa è la notizia importante ce n'è uno in meno visto che comunque non erano tanti prima prima della guerra erano 147 i su 34 e attualmente in due anni di conflitto e mezzo quasi tre ne hanno persi 27 più 4 danneggiati quindi gliene rimangono un centinaio bene amici ah se sarete curiosi del libro che ho ricevuto che sto sfogliando è un libro sui missili di hook harkins o farmi degli aggiornamenti sui missili più moderni e questo è quanto niente come sempre se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace è importantissimo per spingere il video nelle indicizzazioni e un abbraccio alla prossima